Adesso avremo modo invece di ascoltare un qualcosa di molto simile al modo simpatico di raccontare le regole grammaticali del dialetto napoletano all'Enzo Fischetti, il comico televisivo che immagino molti di voi conosceranno. Prenderà la parola Giovanni Scafaro, il poeta che è stato vincitore proprio in questi giorni del premio letterario dell'Accademia degli Artisti, Fiabastrocca 2015, ci darà una prova di questa sua abilità e naturalmente noi siamo qui pronti per ascoltarlo e lo mettiamo subito alla prova. Giovanni Scafaro. Grazie. Voglio dedicare questa mia venuta qui questa sera a mio padre che dall'inizio di giugno ci guarda da lassù. Purtroppo ieri è uscito il mio secondo romanzo e non ho avuto modo di poterglielo donare. Grazie. La forodie che vi presento questa sera riguarda un uomo che viene da Firenze e si trasferisce a Napoli ed incontra delle difficoltà incredibili nell'imparare la lingua napoletana. Ovviamente è di Enzo Fischetti e io l'ho riscritta e l'ho rielaborata per questa sera. Buonasera a tutti, mi chiamo Giovanni Scafaro, provengo da Napoli ma io in realtà sono nato a Firenze ed è proprio là che sono rimasto proprio giusto il tempo per assistere all'alluvione. Adesso ci siamo trasferiti a Napoli e abbiamo incontrato delle difficoltà incredibili nell'imparare la lingua napoletana. Però abbiamo capito che ci sono delle regole grammaticali fisse che se imparate bene veramente possiamo imparare e parlare questa lingua che ci invidiano in tutto il mondo. Però ci sono delle eccezioni. Cioè bisogna ripetere alcune parole due volte, dico due volte altrimenti non si riesce a dare il senso e il significato alla frase. E mi spiego. Lentamente, piano piano, adage che non è la stessa cosa di lentamente, si dice quonc, quonc, interamente, san san, meticolosamente, pil pil, attenzione qui bisogna fare un distinguo perché il pil pil non è da confondere con il pilu calabro. Il pilu calabro è quel pelo che ci ha parlato Antonio Abbanese nei suoi due film tutto tutto niente niente oppure qualunque mente rappresentata dal suo personaggio eccetto la qualunque. Per chi non avesse visto il film o non avesse ancora compreso la metafora il pilu calabro è quel pelo che le donne portano custodite là dove non batte il sole. Disteso, lungo lungo, e se uno è disteso in modo più rigido tisg, tisg, oppure per esempio quando uno arriva all'appuntamento all'ultimo minuto gun, gun, oppure quando uno vuole fare qualcosa di nascosto senza farsi scorgere ahum, ahum. Poi ho incontrato delle difficoltà veramente incredibili per quanto riguarda gli avverbi di tempo. Adesso, mo, in questo momento, mo, mo, come se io che provenivo da Firenze dovevo capire che mo, mo significasse in questo momento ma ho scoperto che la regalo può essere applicata anche al passato. Allora, tan, in quel momento, tan, tan. Poi ci sono delle parole che iniziano con determinate consonanti. Ebbene, queste parole, per esempio, ci sono le parole che iniziano con la lettera P queste parole perdono la lettera P e si aggiunge la C e la H per esempio, piover, chiover, pianger, chiagner, piumb, pium, pium oppure per esempio le parole inizianti con la lettera G queste parole perdono la lettera G e acquistano la lettera J per esempio, jorn, jorn, gatt, jatt, jennere, jennere oppure le parole inizianti con la lettera S queste parole perdono la lettera S e ne acquistano una più blasonata acquistano la N apostrofata per esempio, sopra, ngop, spusat, nzurat, spork, nzavat oppure per esempio ci sono poi i verbi ebbene, signori, noi qua abbiamo un verbo che ci invidiano in tutte le parti del mondo pensate che nemmeno gli uomini di Billaden riuscivano a dimensionare il movimento di una persona o di un gruppo di persone che si muovono nello spazio e nel tempo signore e signori, vi presento il verbo eccere all'indicativo presente del verbo eccere fao il loco e il canno in l'anno e il loco e il canno in l'anno poi un giorno, quando mi trovavo a camminare per le vie del vasto voi sapete che è quella zona di Napoli dove le strade sono intitolate alle città più note incontro il poeta e scrittore Ciro De Novellis quando a un certo punto mi fa uè Giova, dove vai? Ciro, sto andando a via Pavia se mi accompagni ti offro un bel caffè quando a un certo punto fa non ti preoccupare sei in mano all'arte Pavia e Pavia Pavia e io incomincio a riflettere ma chissà quale regola grammaticale fissa si cela dietro questo Pavia al cubo chissà che cosa avrà mai voluto dire questo per dire che la capacità di sintesi dei napoletani è veramente straordinaria pensate che Platone diceva che per sintetizzare una grande idea o un concetto basta una sola parola per esempio amore, fratellanza, amicizia ebbene i napoletani fanno di più i napoletani con una sola vocale spiegano un intero senso di una frase per esempio scoperte che la lettera I significa andare ce ne vogliamo andare c'è un volum I oppure per esempio scoprire frequentazioni comuni dopo un lungo periodo di tempo oppure comprare un meccanismo elettronico o un consegno ma funzionante oppure per esempio parlare esplicitamente di una persona senza fare il nome l'amico Fritz e l'ultimo è chiudo ho scoperto delle regole grammaticali fisse che si applicano agli aggettivi possessivi anche qui ci sta questa regola che bisogna applicare e non sbagliamo mai per esempio degli aggettivi possessivo mio, tuo, suo si prende l'iniziale dell'aggettivo possessivo e si pospone alla fine della frase e mi spiego mio padre pat m tuo padre pat t signora come si chiama lei? signora Rosanna la regola da applicare non è pat ma io pat il aggettivo possessivo irregolare grazie